L'addio di Zeman per motivi di salute. L'investitura ufficiale del vice Giovanni Bucaro, il momento di oggettiva difficoltà, il durissimo comunicato della Curva Nord contro il presidente Daniele Sebastiani. Nella nota si legge, invitiamo tutti i tifosi del Pescara a venire allo stadio per urlare tutto il disappunto verso la società. Lo faremo restando fuori per tutto il primo tempo. Entreremo solo nel secondo. Clima dunque pesante sul campo, tre sconfitte di fila con dieci gol subiti e soltanto uno realizzato. Il Pescara ospita la Lucchese. In conferenza Bucaro conferma ciò che avevamo già anticipato. Per la sua promozione è stato decisivo, l'imprimatur di Zeman, altrimenti non avrebbe accettato. Martedì dopo l'allenamento, Roiano ha informato me e la Bricciosa che eravamo stati convocati dal presidente in ufficio. Quindi nel tragitto ho chiamato subito il mister. Quando il mister mi ha risposto mi ha detto l'allenatore lo devi fare tu. A quel punto sono andato più preparato all'inco perché se il mister mi avesse detto Giovanni lascia perdere, io sarei andato via. Questo ve lo posso garantire e ve lo sto garantendo adesso. Continuità al lavoro svolto dal Boemo ma qualcosa cambierà. Zeman non ne nascono più. È unico. Lo può fare solo lui. Noi abbiamo preso, abbiamo i suoi concetti del gioco offensivo, li ho avuti sempre. Però poi non puoi imitarlo perché ti fai male. Qualcosa che conosco io ci devo mettere. I concetti saranno sempre quelli che ci ha inculcato il mister. Però è normale che se voglio fare come il mister mi devo prendere le valigie oggi stesso e andarmene a casa perché farei dei danni sia alla squadra che alla società. Io ho fatto il difensore. È normale che qualcosina di diverso in fase difensiva la porterò. Questo è inevitabile. La squadra deve essere sprogiudicata in alcuni momenti. Poi deve capire che ci sono dei momenti che prendere dei rischi in certe situazioni non ne vale la pena. Sicuramente i concetti sono quelli del mister perché proseguirò il lavoro del mister. È normale che devo rivedere qualcosina per quelle che sono le mie idee. Ancora ai margini Vergani e a Cornero che tuttavia sarà pronto per la sfida di Sassari in programma sabato 2 marzo. Probabile 11. Plizzari tre pali in difesa Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Dagasso Play, interni Aloy e Tuniav. Davanti Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. In tal caso partirebbe dalla panchina Meazzi che Bucaro vede meglio, con altre caratteristiche, nel tridente offensivo. La Lucchese, 14esima in classifica con 32 punti, rischia di essere risucchiata nel vortice della zona calda. In compenso è il semifinale di Coppa Italia, mercoledì prossimo 28 febbraio, il ritorno sul campo del Padova, sconfitto all'andata per 1-0. La squadra dell'ex Giorgio Gorgone, 16 presenze e un gol da gennaio a giugno 2004 in B, ha fatto registrare un trend molto altalenante. In particolare fa fatica a trovare la via del gol. Finora 24, quinto peggiore attacco del girone B. In trasferta solo 11 punti, frutto di due vittorie e cinque pareggi. Sei le sconfitte, ultimo successo lontano dalla Porta Elisa, il 16 settembre, 3-1 sul campo della Re Canatese. Sono trascorsi più di cinque mesi. All'Adriatico non risponderanno all'appello Capitana Tiritiello per la squalifica Yeboa, il lungo degente fedato e il senegalese Ndiaye, classe 2005 arrivato a gennaio proprio dalla Pescara. Sistema di gioco 3-4-3, ecco il probabile 11. Chiorra, tre pali, in difesa Sabbione, Gucker e Benassai. A metà campo il tandem Tumbarello-Cangianiello, sulle fasce Quirini e il rientrante De Maria, in attacco di Santo e Rizzopinna a supporto di Simone Magnaghi. È ben allenata perché è una squadra che ricerca pure il palleggio, che gioca anche un buon calcio. Ha giocatori pure esperti che ti possono mettere in difficoltà. Giocano, sono anche aggressivi quando non hanno il pallone. Se non mettiamo coraggio, se non siamo veloci, quando dobbiamo andare in avanti, rischiamo poi di andare a sbattere contro il muro. Dobbiamo stare attenti perché comunque loro davanti hanno una squadra che per caratteristiche sono anche veloci, hanno qualità, quindi dobbiamo stare attenti quando loro ci vengono dentro. Promettere di dire andiamo in Serie B sarebbe una follia, non mi permetterei mai, non voglio prendere in giro. Sicuramente la squadra darà tutto quello che hanno nell'arco dei 90 minuti. Questo lo posso promettere anche perché chi non lo fa poi non giocherà. Le immagini di alcuni precedenti. 2 ottobre 1994, Serie B, la Lucchese di Fascetti e Spugna l'Adriatico. 1-3 illude il gol di testa di Dario Di Gianatale su sponda di Edoardo Artistico. Nella ripresa cambia tutto. Marcatori Eusebio Di Francesco, Fialdini e Roberto Paci su calcio di rigore. Sempre in B, 24 marzo 1996, il Pescara di Gigi Maifredi, subentrato a Fracoddo, si impone 2-1. In vantaggio i rossoneri di Bolchi con Massimo Rastelli. 1-1 di Ottavio Palladini, gol del successo di Michele Baldi. 23 novembre 1996, Tris del Delfino di Delio Rossi. Prodezza balistica di Michele Zanutta su calcio di punizione. Raddoppio di Re Federico al secolo, Federico Giampaolo, 3-0 di Angelo Terracenere. 2 settembre 2007, campionato di Serie C. La Lucchese di Braglia si impone nettamente, 3-0, reti di Bolzan, Nocentini e Beppe Giglio. Oggi DS del Basto Girardi su calcio di rigore. Il Pescara di Franco Lerda era ancora un cantiere aperto con tantissimi giovani in campo. Aridità, Felci, Mottola, Luca Di Matteo, Simone Vitale, Axel Vicentini, Marco Pomante. Capitano, l'esperto, Luca Leone. L'ultima volta all'Adriatico, 28 novembre 2021. 0-0 a dir poco deludente. Nel finale il Pescara di Gaetano Auteri perde anche la testa e chiude in 9, espulsi, Drudi e Rizzo.